La base di partenza è quella della ancora fotonica da guidare 147. Poi in Alfa Romeo capirono che grazie al contributo di Giuseppe Busso avrebbero potuto creare qualcosa di irrimediabilmente pazzesco. E così è nata la 147 GTA, una a due volumi che in questo perché comprare la Classic ascolterete a tutto volume perché il suo V6 è da condividere. L'Alfa Romeo 147, progetto 937, arriva sul mercato italiano alla fine dell'anno 2000 e da subito il distacco dalle 145 e 146 che era stata chiamata a sostituire si fa galattico grazie a uno stile riuscitissimo e ha una dinamica di guida fenomenale. Poi però arriva la 147 GTA e allora non ce n'è più per nessuno. Siamo a Parigi al Mondial 2002 quando il motore 3200 V6 incontra una carrozzeria compatta che grazie all'ennesimo e ultimo capolavoro dell'ingegnere Busso si trasforma in una vera hot edge tutta italiana. L'acronimo GTA ovvero Gran Turismo Alleggerita nato con la Giulia Sprint GTA nel 1965 ora si sposa alla perfezione con la muscolatura e l'attitudine emozionare che questa due volumi Alfa Romeo sfoggia con naturalezza. D'accordo la trazione è anteriore al contrario di quelle che fino a poco tempo prima vengono definite come le vere Alfa Romeo ma l'avantreno e la raffinatezza della 147 compensa tutto lo scetticismo iniziale dei puristi portando anche questa GTA tutt'avanti nell'Olimpo delle Alfa più desiderate e desiderabili di sempre. La sua uscita di scena produttiva si intende avviene nel 2005 dopo 5029 esemplari costruiti di cui 4025 col cambio manuale a 6 marce e 1400 col sequenziale Sele Speed della Magneti Marelli meno apprezzato dagli amanti della guida sportiva per la sua scarsa reattività diciamo così. Un altro dato che poi rende anche l'idea di quanto questa 147 GTA sia apprezzata a livello planetario riguarda il Giappone primo mercato estero con ben 878 esemplari importati seguito da Germania e Francia che chiudono il podio dei fan della Gran Turismo Alleggerita più hot edge che ci sia. Cronologicamente parlando la 156 GTA Berlina e Sportwagon è stata presentata prima della 147 quindi è normale che a livello di comunicazione e marketing sia stata lei ad essersi giocata la carta della parentela con la Giulia Sprint GTA la prima Gran Turismo Alleggerita di sempre però in quanto a bellezza e sound diciamoci la verità. Ideare uno spot con la 147 GTA non deve essere stato troppo complicato con queste immagini e questi suoni che ancora oggi a distanza di 20 anni fanno letteralmente sognare. Fuori com'è. Compatta, muscolosa ma allo stesso tempo discreta anche se a ben guardare tutti questi rigonfiamenti pazzeschi beh nell'appassionato medio ancora oggi potrebbero causare altre tipologie di rigonfiamenti e di questo dobbiamo incolpare anzi ringraziare Walter De Silva che ha creato una 147 GTA che di invecchiare proprio non ne ha voglia. Le Alfa Romeo 156 GTA in entrambe le varianti di carrozzeria esistevano già e nessuno ha mai messo o mai metterà in dubbio il loro fascino ma quando è stata svelata la 147 GTA è come se in Alfa Romeo avessero inaugurato una nuova era targata Gran Turismo Alleggerita. Il suo temperamento deciso è eclatante da qualunque punto di vista voi la osserviate ma in lei non c'è nessuna ostentazione solo dettagli che parlano di un felice sposalizio tra prestazioni aerodinamica. Davanti la presa d'aria inferiore è maggiorata per far respirare meglio il V6 così come i passaruota sono stati allargati per poter ospitare i cerchi da 17 pollici di serie o volendo da 18 pollici. Con le minigonne laterali dal design sublime che portano a un posteriore muscoloso ma tonico avvalorato dal doppio scarico cromato. Venendo ai colori sono circa 10 le tinte di carrozzeria disponibili col 130 rosso alfa di questa prova che di certo è tra le più calzanti senza dimenticarsi almeno per me del 693 azzurro gabbiano o del 212 bianconuvola un colore appositamente creato per la 147 GTA. L'elegante sportività che si manifesta all'esterno trova una naturale continuità anche nell'abitacolo molto vicino a quello di una normale 147. Col tachimetro che però qui arriva a indicare 300 chilometri orari di velocità massima e questo lo si scorge attraverso il volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle. Al centro della plancia trova poi spazio spesso e volentieri nelle configurazioni dell'epoca l'innovativo sistema Connect posto poco sopra al climatizzatore digitale Bizzona. Ma a farla da padroni però sulla GTA ci sono i sedili alti e profilati il tratto più distintivo degli interni di questa performante 147 con rivestimenti che potevano essere in tessuto tecnico di vari colori oppure in pelle monocolore nera e in alternativa bicolore con la parte centrale della seduta in tinta grigio blu o la mia preferita cuoio. Come suona? Caro Giuseppe, semplicemente grazie. Come si guida? Io ormai al caso non credo più troppo ma che ci crediate o no circa 20 anni fa io ero in questa esatta posizione su di una 147 GTA. Avevo proprio aspettato tanto, perlustravo ogni weekend quel concessionario Alfa di Cesena e poi alla fine lei è arrivata, nera come la notte, con le pinze rosse che gridavano già battaglia e la cosa bella è che era immatricolata, quindi la provai, mi prenotai e il giorno e l'ora definita mi presentai in concessionaria. Non so perché il venditore si è fidato, è stato veramente gentile, però di fatto mi trovai a guidare per la prima volta una GTA su di una 147 e fu magico. Di quella giornata, oltre a qualche imprecazione del passeggero, ricordo fondamentalmente due cose. una bellissima e una che mi ha un po' deluso. E adesso parto da quella bella. Giuseppe Busso spesso lo si ricorda soltanto per il suo V6, partito con l'Alfa 6 e poi è voluto nella cubatura, nelle prestazioni, fino al 3002 di questa prova. Ma l'ingegner Busso, di fatto, ha reso grande il motorismo italiano in tanti altri leggendari modi, a partire dal suo contributo alla prima Ferrari, la 125S. Ma tornando alla 147 GTA, ecco, questa è un'auto che grazie al 3002 di cui è dotata, la si acquista. Ora si può anche strapagare soltanto per la voce che ha. Niente variatore di fase o condotti di aspirazione. E se la potenza e la coppia la potete leggere nella nostra scheda tecnica, vi assicuro che in quanto ad anima non c'è numero che tenga. Qui siamo già nel metaverso. Considerate poi che la 147 GTA pesa circa 1360 kg e questo significa circa 50 kg meno della 156, cioè ogni cavallo sulla 147 GTA si deve occupare di circa 5,5 kg. Ne conseguono una velocità massima di quasi 250 km rari, mentre lo 0-100 è coperto in 6,3 secondi. Certo, possiamo star qui a ragionare sul fatto che il bilanciamento potrebbe essere migliore se non ci fosse tutto quel ben di Dio lì davanti, va bene, ma ad ogni affondo del gas è come se analisi e fondati giudizi tecnici siano autorizzati a passare sonoramente in secondo piano. Ma torniamo alla seconda delle due cose che imparai quel giorno, quella che mi ha un po' deluso. Purtroppo sono stato meno fortunato rispetto a oggi, in quel sabato del 2003, perché l'asfalto ora è asciutto, ma quella notte aveva piovuto tantissimo, quindi approccia è alla 147 GTA col bagnato. E nonostante lo sterzo sia davvero ben progettato, è favoloso questo sterzo, mi sarei aspettato una connessione ancora più diretta e sincera con l'avantreno, ma questa esuberanza e questa potenza senza un differenziale autobloccante la rendono, non dico meno piacevole di quello che ci si potrebbe aspettare, ma un po' sì. Poi però maturando le si perdona tutto. Facciamo un passo indietro. Le sospensioni conservano lo schema di base della 147, ma con qualche ovvia miglioria sulla GTA, che davanti sfoggia un montante telescopico specifico, una barra stabilizzatrice più grande e diversi attacchi sui tiranti per molle e ammortizzatori, anch'essi modificati, così da ottenere un quadrilatero alto dalla resa strepitosa, mentre dietro simili aggiornamenti e maggiorazioni riguardano il McPherson di base. Ci ha tenuto a ricordare le caratteristiche dell'assetto perché essi lo merita davvero. Un avantreno del genere, abbinato a uno sterzo squisitamente diretto, hanno reso orgogliosi anche quegli alfisti che consideravano solo la trazione posteriore sulle auto del biscione e che però sarebbero stati ancora più soddisfatti se questa 147 GTA avesse condiviso con la 147 Q2 il differenziale l'autobloccante Q2, che di certo avrebbe ottimizzato l'esuberanza dell'avantreno in qualunque condizione di guida, rendendo più godibili i 250 cavalli del V6 anche con l'asfalto non perfetto o non perfettamente asciutto. Davvero peccato, ma per fortuna oggi una soluzione si trova facile. In quanto a handling penso che la mancanza di un autobloccante all'anteriore sia un punto che ho sufficientemente approfondito, a cui però qui aggiungo l'inadeguatezza del primo impianto frenante installato con dischi da 305 mm successivamente sostituiti con un sistema con dischi da 330 mm e sempre rimanendo sull'avantreno segnalo che il raggio di sterzata è imbarazzante per quanto è ampio. Per il resto, come riprodotto dalla targhetta identificativa punzonata al telaio, anche questa GTA rimane sotto sotto una Fiat con tutte le simpatiche anomalie elettroniche o leggerezze qualitative dell'epoca che però col V6 in azione si sentono decisamente di meno. Quanto costa? Un equipaggiamento completo e praticamente tutto di serie, inclusi controllo di trazione ASR e di stabilità VDC. Insomma un'auto bella, sicura e veloce, un Alfa Romeo in tutto e per tutto che 20 anni fa era offerta a un prezzo di poco superiore ai 33.000 euro. In pratica quello che in molti chiedono oggi. Dunque fino a qualche anno fa per delle 147 GTA usate le richieste erano di poco superiori ai 10.000 euro, ma con l'avvicinarsi dei 20 anni e la crescente stima in questa Super 147 beh ora le cose sono decisamente cambiate. Infatti per una 147 GTA a meno di 20.000 euro dovete per forza ripiegare per quelle con cambio se le speed, mentre per delle belle manuali si viaggia tra i 24 e circa 30.000 euro con punte di richiesta anche superiori per esemplari come usciti dal concessionario. 3200 V6 di Giuseppe Busso, cambio manuale in questo caso, design Walter De Silva, GTA, color rosso Alfa. Non ditemi che, almeno per un istante, onestamente in questo perché comprate la Classic non avete volato, perché io sto ancora volando, nonostante tutto. E questo significa accettare anche le piccole imperfezioni di questa 147, cioè la sua motricità al limite dell'imprecazione e poi anche il fatto che se lei dovesse incontrare nuovamente la sua avversaria di sempre, la Golf R32, prenderebbe ancora la paga. senza contare che lei costa oggi e nel frattempo sono nate altre tutt'avanti anche con la metà dei cilindri prestazionalmente più valide di lei? Forse. Ma no, questo non si fa perché una 147 GTA non si confronta con altro e questo lo capirete scoprendo il suo vano motore quando verrete abbagliati dalla lucentezza di quei collettori. Ecco, in quel momento vi ricorderete che il vostro cuore rosso Alfa tra le Tecch batterà sempre per lei. Grazie a tutti.